che il sindaco di Sassa, in qualità di autorità di protezione civile, ha impartito. Abbiamo individuato su nostre territori gli scenari principali, quindi rischio incendi, rischio idraulico-idrogeologico, rischio neve di accio e rischio industriale. È stata inoltre potenziata la struttura operativa. La riorganizzazione della struttura relativa al presidio territoriale, che oggi è stata fortemente potenziata con tutte le organizzazioni di volontariato presenti del territorio, che oggi hanno siglato a accordi con il nostro ente per collaborare nell'emergenza di protezione civile. Fondamentale è la comunicazione e l'informazione alla popolazione. Le attività principali svolte dal nostro ufficio, con attività che svolgiamo spesso nella Galleria Ocean di Sassari, oppure nelle manifestazioni organizzate nelle piazze cittadine. Ricordo la manifestazione Io non rischio, dove il nostro ufficio si presenta ai cittadini. Dal sito del Comune di Sassari è possibile accedere ad una piattaforma della protezione civile che fornisce utili indicazioni. Noi abbiamo acquisito una piattaforma web GIS che ci ha permesso di pubblicare e rendere disponibile ai cittadini il piano comunale di protezione civile unitamente a tutti gli scenari di rischio in esso presenti.